Ben tornati a Super e come sempre in collaborazione con Radio DJ andiamo a scoprire le prime 19 posizioni degli artisti più venduti della settimana. Vai! Ciao a tutti da Paoletta e da Radio DJ. Al numero 20 degli artisti più venduti della settimana scende dal numero 18 Britney Spears con Baby One More Time e scende di quattro posizioni Sogno di Andrea Buccelli che troviamo al numero 19. Al numero 18 entra in classifica Umberto Tozzi con Bagaglio a mano e al numero 17 con Mi fai stare bene da 30 settimane in classifica c'è Biagio Antonacci. Non vendermi, amore mio, non vedi sono quello che non hai, credimi è più facile lasciarsi andare che cercare di capire. Tra le cose che non hai, mi ritrovo proprio lì, un po' mi viene naturale, un po' sarai tu che lo puoi fare, tra le cose che non hai. Era Biagio Antonacci al numero 17, al numero 16 rientra in classifica Alex Britti con l'album Hip Hop Sanremo Edition. Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto? Come quella volta in treno che guardavi dal finestrino, topiste avvicinandomi cominciai a fare il cretino. Che ore sono? Quanti anni hai? Davvero sei di Milano? Ho una zia che vive a Brescia, certe volte il mondo è strano. Che cosa vorresti che dicessi adesso che ci frequentiamo? Ti accontenti di ti voglio bene oppure vuoi proprio ti amo? T'ho comprato un cagnolino che abbagliava raramente, ma da quando sta con te si è già mangiato tanta gente. Lo sapevo che eri strana però non capivo quanto. E da quando stiamo insieme due, tre, quattro volte ho pianto. Al numero quindici scendono di cinque posizioni gli scancanansi con Post Orgas Me Chill, mentre perde due posizioni Bredy Hatchett dei Cranberries che troviamo al numero quattordici. Al numero tredici troviamo l'omonimo album di Ricky Martin e al numero dodici sale di una posizione visto così di Mango. Al numero undici sale di sei posizioni l'omonimo album di Engun, mentre Io non so parlare d'amore di Adriano Celentano perde una posizione e scende al numero dieci. La gelosia, quando arriva non va più via, con silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, con i tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. Al numero nove sale di cinque posizioni Buena Vista Social Club di Rai Cuder e al numero otto perde tre posizioni Synchronized di Jamiro Quay. Sale al numero sette da nove settimane in classifica l'album di Renato Zero, Amore dopo Amore, Tour dopo Tour. Inutili rumori, non è felicità Vorrebbero convincerci che il paradiso è qua È un mondo virtuale, padrone chiunque sei Smetti di sfiarci, di sfruttarci, esistiamo anche noi In fondo a questa vita Talmente breve che Non è un delitto se Se la offro a te Era Renato Zero al numero sette Al numero sei stabili rispetto alla settimana scorsa ci sono i Chemical Brothers con Surrender Mentre i Litfiba con Vivere il mio tempo salgono di due posizioni al numero cinque Ti farei volare sulle onde Sulla vita come un'altalena E parlare pure con i peschi Come una sirena Ti vorrei insegnare l'equilibrio Sopra un mare che sempre è tempesta Per vivere il tuo tempo E starci bene dentro Questo gioco è un gioco d'equilibrio Devo solo farci un po' alla mano Perché stare nel mio tempo E viverlo da dentro Al numero quattro stabile rispetto alla settimana scorsa troviamo Giovanotti con Capo Horn È per te che sono verdi gli alberi E rosa e fiocchi in maternità È per te che il sole brucia a luglio È per te tutta questa città È per te che sono bianchi i muri Che la colomba vola È per te il 13 dicembre È per te la campanella a scuola È per te ogni cosa che c'è È per te ogni cosa che c'è Era Giovanotti al numero quattro Al numero tre resta stabile Rewind di Vasco Rossi Mentre al numero due scopriamo l'album numero uno della settimana scorsa Californication dei Red Hot Chili Pepper Mentre le prime 19 posizioni degli artista Ci sono moltissimi più venduti della settimana Ma prima di scoprire la numero uno Voglio ringraziare Omnitel Radio DJ Tutti voi che siete a casa e che so che ci guardate ogni domenica Ricordarvi il nostro sito internet www.italia1.com Così potete votare tutto ciò che vi piace Ragazzi noi ci vediamo domenica prossima Da Superestate direttamente da Rimini Dalla spiaggia di Rimini Alle ore 13 su Italia 1 Ma adesso vi lascio con la numero uno della classifica E io intanto vado a ruotare un pochetto Ciao ragazzi Al numero uno sale dalla seconda posizione Millennium dei Backstreet Boys E io intanto vado a ruotare un pochetto Ma ora è arrivata la prima Cosa E io intanto vado a ruotare un pochetto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.